La giornalista ci domanda al ristoratore con la mascherina tutto attento, bravo, che ha solo i tavolini fuori E come sta andando col lavoro fuori? E fa, eh, eh, se non piove va bene Se io mi faccio male a un ginocchio e non riesco più a muovere la gamba, come va? Va bene o va male? Va male Se dopo una settimana mi fa meno male e riesco a camminare, va bene o va male? Va meglio, ma non va mica bene E poi riesco anche a fare due passi attorno a casa, come va? Va bene No, perché io vorrei fare come prima che facevo 50 km in bicicletta Non va mica bene, va sempre un po' meglio No, perché qua ci vengono dati, come ai carcerati, dei bicchierini di acqua ogni giorno un po' di più E allora, ah, hai visto? Ieri te ne davano un bicchiere d'acqua al giorno, adesso ce ne danno due, eh, i carcerieri qua Eh, adesso sì che va bene Eh, non va bene, no Perché quando aprono la porta e io posso uscire Lì sì che va bene Lo so, è strano come ragionamento? È strano? Un'ora in più di coprifuoco Ehi, la champagne, ah Adesso il primo giugno forse riaprono i locali dentro Parlo della ristorazione, perché qua viviamo di turismo Io ho anche fatto la scuola alberghiera, per cui è un mondo che conosco benissimo So come sono tartassati i commercianti che hanno continuato a pagare le bollette, eh, in questi mesi qua Ed iscain, hanno visti pochi No, ma se non piove va bene, eh, va bene Ah, benone No, ma se non piove va bene